Qual è l'interesse di un'azienda a partecipare a un convegno come quello della SIOT? Dunque, Zimmer Biomet nella quotidianità supporta i professionisti medici e di conseguenza i pazienti ogni giorno con il supporto dei propri prodotti e quindi l'obiettivo che ha Zimmer Biomet nella sua mission è quello sia di collaborare nella logica dei training e quindi del miglioramento delle condizioni della cosiddetta medical education dei professionisti medici ma allo stesso tempo ogni giorno ha un commitment nei confronti dei pazienti per garantire i più alti standard qualitativi. Quindi SIOT rappresenta comunque un partner importante per questo tipo di attività e il meeting annuale che ogni anno viene svolto è un'occasione importante di confronto dove Zimmer Biomet vuole dare la sua parte nella logica della formazione della classe medica.